Musica Le distanze di sicurezza che come il dottor Torchio confermerà sono aumentate quindi a due metri con le nostre mascherine sempre alla mano per la prevenzione del covid. Dunque dottor Torchio oggi con lei volevo parlare sì della situazione covid ma in particolare del caso del vaccino AstraZeneca perché l'EMA ha fatto ripartire le vaccinazioni appunto marchiate AstraZeneca. Ma quindi le volevo chiedere che cosa è successo con questo vaccino perché a quanto pare ci sono stati dei presunti decessi e quindi volevo chiederle la causa e soprattutto anche un po' di rassicurare a casa se fosse possibile chi è stato vaccinato deve subire la seconda dose o chi deve essere ancora vaccinato. Sì l'EMA dopo il blocco dei vaccini è stata chiamata in causa per verificarne quindi fare una seconda verifica perché il vaccino AstraZeneca era già stato approvato. Si si aspettava dai vaccini covid magari di avere delle reazioni avverse di tipo allergico come shock anafilattici che tutto sommato sono state relativamente basse. La sorpresa è stata di avere delle reazioni di trombosi in particolare caratterizzate da una diminuzione fortissima delle piastine del sangue e poi delle tromboembolie. In particolare in un settore strano del cerebrale è l'avena sinusale. Proprio questa particolarità ha indotto alcuni paesi tra cui l'Italia, la Germania, la Francia a chiaramente fermare le vaccinazioni per fare una riverifica. La verifica è stata fatta e se posso dire il vaccino è stato nuovamente approvato anche se non è stato chiarito questa problematica. I casi avversi di tromboembolia sono stati 1 su 800 mila quindi su 10 milioni di, anzi su 20 milioni di vaccini ci sono stati 25 casi di questo tipo. E bisogna dire che la decisione è probabilmente una decisione più generale, politica, di statistica in quanto viene considerata una percentuale accettabile negli effetti collaterali di un vaccino ricordando che noi stiamo vivendo questa situazione come se fossimo veramente in tempo di guerra. Perché oramai tutti abbiamo capito, compresi i negazionisti, che se non ci vacciniamo non riusciamo a uscire da questo incubo anche perché ogni volta che allentiamo le morse del lockdown e ci liberiamo un pochino automaticamente e rapidamente con le nuove varianti poi risalgono ancora più rapidamente i contagi. Quindi il vaccino volente o non lente è l'unica strada per uscire da questa situazione. Ma noi sappiamo anche per esperienza che il vaccino comunque ha sempre degli effetti collaterali e può avere degli eventi avversi. Quindi che consigli noi possiamo dare? Esatto. Diciamo che intanto uno stop ai vaccini di tre giorni come abbiamo avuto ovviamente ci ha permesso di capire qualcosa in più però ha anche creato il presupposto di nuovi decessi che sono tutte le persone che non si sono potute vaccinare che erano prenotate e che potrebbero contrarre perché c'è un ritardo nella vaccinazione e potrebbero contrarre il virus e andare incontro quindi alla morte per il covid. Per cui diciamo che anche fermare le vaccinazioni che è doveroso in caso di indagini comunque comporta tutta una serie di conseguenze molto pesanti. Cosa ti posso dire? Che normalmente... Le persone a rischio chi sono in generale? Ecco questo è un fatto che è importante. Allora intanto abbiamo principalmente questi due rischi. I rischi di allergia e le persone che soffrono di gravi allergie, che non vuol dire solo un po' di rinita allergica al polline ma che hanno già allergie a farmaci, ad alimenti e tutto quanto, devono comunque segnalarlo. Il medico di base dirà loro che cosa fare, se prendere l'antistaminico o saranno in centri vaccinali a farlo magari qualche giorno prima e per qualche giorno dopo. Invece per quello che riguarda la tromboembolia c'è una serie di persone, chiamiamola categoria rischio e tra questo purtroppo ci sono anche le donne che per esempio assumono la pillola anticoncezionale ma perché la trombosi è già un rischio di effetto collaterale della pillola anticoncezionale. Quindi le persone che prendono la pillola, che sono tantissime ovviamente, devono dichiararlo e soprattutto è consigliabile fare una serie di esami prima di sottoporsi alla vaccinazione. Innanzitutto il test sierologico per vedere se abbiamo gli anticorpi perché se noi abbiamo fatto il Covid e abbiamo una quantitativa sufficiente di anticorpi non c'è urgenza della vaccinazione. È già stato stabilito all'idea scientifico che basterebbe una dose per tutti coloro che hanno fatto il Covid e hanno gli anticorpi alti ma non c'è l'urgenza. Queste persone possono attendere qualche mese, dare la precedenza a tutti coloro che non hanno fatto il Covid nella vaccinazione e nel frattempo in due o tre mesi capiremo qualche cosa di più di queste problematiche. Un'altra situazione da segnalare è proprio la possibilità che ci siano persone predisposte alle trombosi e la cosiddetta trombofilia e qui ti posso dire che ci sono dei test che possono essere fatti insieme al test sierologico degli anticorpi che sono ovviamente il fibrinogeno, i tempi di coagulazione e il dimero che è molto importante anche nella malattia del Covid e anche l'omocisteina che però può alzarsi nelle persone con carenza di vitamina B12 ma può essere anche un indice di predisposizione alla trombosi. Questi esami si possono fare attraverso un medico di base per tutte le persone che hanno una familiarità per le trombosi in modo da potersi vaccinare con maggiore tranquillità sapendo meglio i rischi a cui possono andare incontro. Dottor Torchi, ultima domanda, ci saranno secondo lei altri decessi in base alla vaccinazione AstraZeneca? Io credo che AstraZeneca come tutti gli altri vaccini hanno questo indice minimo di mortalità comunque io purtroppo penso che si ripeteranno dei casi perché statisticamente rifaremo altri 30-40 milioni quindi siamo in tempo di guerra, dobbiamo vaccinare se non usciamo da questo incubo e probabilmente dobbiamo fronteggiare anche questa situazione che ancora non conosciamo bene. Dottor Torchi, io la ringrazio per i suoi preziosissimi consigli. A casa vi ricordo che se voleste rivedere una delle nostre puntate basta andare su YouTube e digitare i consigli del dottor Torchio più il nome dell'argomento della patologia al quale siete interessati. Vi auguriamo un buon proseguimento di visione. Grazie a tutti! Grazie a tutti!